Hola hola, benvenuti, bentornati. In questo video vi ho fatto una selezione di prodotti di supermercato che potete utilizzare per creare la vostra routine di cosmetica, la vostra routine di skin care, tanto al mattino come alla sera. Giuro che è stato sicuramente uno dei video più difficili da preparare per tutto quello che ho dovuto leggere, ricercare, guardare, siti web eccetera. Ma adesso nel video vi spiegherò perché è stato così difficile e perché ho scelto tutti questi prodotti per voi. Quindi andiamo a vedere il video subito! Benvenuti, bentornati, grazie per essere qua un'altra settimana a guardare il mio video parlando di skin care, di cosmetica, della cura del viso. Chi non mi conosce ancora io sono il dottor Luis Campo, sono Luis Campo, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica, lavoro qua a Milano, città dove abito e questo accento, come potete capire, non è italiano. Sono spagnolo da tanti anni che vivo qua in Italia e ogni giovedì vi parlo di skin care, di routine, di come curare la pelle del viso, di come fare gli acquisti più consapevoli, di come scegliere gli ingredienti, i prodotti eccetera. Questo canale di YouTube io ogni giovedì vi pubblico un video, se vi volete iscrivere vi invito ad andare qua sotto che c'è il tasto iscriviti e c'è anche il tasto campanello, così ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica. Se vi piace questo video mi potete fare un like, se non vi piace mi potete fare un non mi piace, ok? Poi sotto trovate tutti i link di tutti i prodotti che vi presento con tutta la spiegazione e anche avete la casa di testo dove mi potete fare domande, commenti eccetera. Cerco di rispondere tutti ma veramente non è possibile. Ah, rispondo solamente alle persone educate, le persone mal educate non le rispondo. E' la mia filosofia, bisogna essere educato nella vita anche per dire le cose che non ti piacciono. A prescindere di quello e senza perdere più tempo, se volete sapere qualcosa in più su medicina estetica, su chirurgia estetica, su quello che faccio in studio, in sala operatoria, vi invito ad andare nel mio Instagram che lì posto tante stories parlando di altri contenuti, medicina estetica, chirurgia estetica. E oggi mi chiedevate prodotti che si possono comprare in supermercato per fare la skin care, per fare la rutina di skin care. Video difficilissimo. I prodotti di supermercati di solito sono fatti da grande compagnie, farmaceutiche o di laboratorio o cosmetiche. Adesso ci sono tanti supermercati che cominciano a avere la sezione, il pezzettino di parafarmacia. Quindi lì sì che potete trovare dei prodotti fatti da laboratori farmaceutici che sicuramente come composizione, come studio del prodotto, al mio parere siano migliori di quelli che si trovano di massa nel supermercato. Il supermercato si è caratterizzato sempre per avere questi prodotti, prodotti che di solito hanno una fascia di prezzo molto più bassa, quindi sono molto economici, ma che se uno va a guardare gli ingredienti o come vengono fatti, tante volte contengono tantissimi siliconi, tantissimo petrolano, un tantissimo profumo, ok? Lasciando in un secondo piano a quelli che sono gli ingredienti principali, gli ingredienti attivi, i principi attivi, principali, per trattare la nostra pelle, per togliere le macchie, per migliorare l'incarnato, eccetera, eccetera, eccetera. Non dico che siano cattivi, non dico che non mi piaccia il silicone, uso creme che contengono il silicone, uso creme che contengono il pretrolanum, ma bisogna capire anche in che concentrazione vengono messi. Se una crema come secondo ingrediente ha il dimeticone, ha tanto dimeticone, nì, ma di quello ne parleremo. Quindi io quello che ho fatto, non sono andato fisicamente in supermercato, una volta lo avevo fatto, ma era molto difficile, perché era in periodo Covid, stare davanti allo scaffale a vedere uno per uno i prodotti, non è il caso, quindi ho preferito farlo da casa. Quindi sono entrato nel sito web di un supermercato che conosciamo tutti, che è Selunga, non c'è niente di sponsorizzazione in questo video di Selunga, ok? Sono andato da loro perché ho visto che entrando nella parte di spesa online potevo trovare tutta la sezione di cosmetica, ok? E quindi andrò, non vi faccio la routine, vado passo per passo, ho qua davanti a me il mio iPad e quindi vedo in ogni sezione il prodotto che hanno. Quindi quando uno entra nella cura del viso, la prima cosa che si trova, che lo sto guardando qua nel mio iPad, vi faccio vedere la mia selezione con il mio iPad, come mi preparo i video, ok? La prima cosa che c'è è le salviette struccanti. Dal mio punto di vista è sconsigliatissime. Le salviette struccanti non servono quando uno ha un'acqua o un sapone, ok? Servono nei momenti di bisogno dove non potete avere un rubinetto con l'acqua e dove non potete avere un sapone e dove non potete avere un asciugamano per asciugare il viso. Le salviette struccanti sono altamente inquinanti perché vengono nella plastica, la salvietta, poi possono essere biodegradabili, ma si mette insieme plastica, imballaggio, carta, eccetera, che sono altamente inquinanti. Oltre ad essere altamente inquinanti, quando uno si estrucca o una si estrucca, sgraffiando la pelle e sfregando la pelle crea un'irritazione della pelle e di solito quello non è buono per togliere il trucco. Invece se avete un sapone, un'acqua, un'acqua micelare e lo fate più delicatamente potete togliere tutto il trucco senza necessità di utilizzare le salviette. Quindi, del primo apartato, del primo punto che S.Lunga propone, che sono le salviette struccanti, io non vi consiglio nessuna. Secondo, estruccanti viso e occhi. Ho scelto due. Ho scelto questo della ROC, ok, che è una mousse detergente molto delicata, pensata a questo, voglio dire, ho cercato che tutti i prodotti che vi consiglio siano quelli un pochettino più delicati, naturali, per pelle sensibili, perché sono di solito quelli che contengono meno prodotti chimici, meno siliconi, meno petronlanum e meno profumo, perché il profumo nei cosmetici, se è troppo esagerato, irrita la pelle perché avasse di alcol o avasse di olio. Quindi ho preferito fare la selezione di prodotti più delicati, e quello è quello che vi consiglio ogni volta che andate in supermercato, cercare prodotti più naturali, più biologici e più per peli sensibili. Questo della ROC, come vi dico, è una schiuma, una mousse, ipoallergenica, senza profumo, non contiene solfati, cosa fondamentale nei detersivi perché così non contengono troppi solfati, non creano tanta schiuma, che è molto inquinante e costa solamente circa 15 euro. Se preferite un olio, per le persone che hanno la pelle molto secca o incluso per quelli che soffrono di acne o che si truccano tanto e che, come dice la cosmetica giapponese, olio porta via l'olio, ho scelto questo della Nivea, un olio a base di olio di mandorla, specifico per peli sensibili e da quello che ho letto non è male. Ok? Solamente costa 5 euro. Passiamo a un'altra sezione che sono le acque miscelari. Le acque miscelari ce ne sono tantissime, molto difficile scegliere una di loro perché nel sito web del supermercato non c'è tantissima informazione. Se poi uno va, nello specifico, a ogni sito web a cercare gli inci, a volte non trovi gli inci. Ma questa, per esempio, l'ho scelta, è questa di Garnier, per pelle sensibile, che costa solamente 3 euro. L'ho scelta perché sono andato a vedere recensioni, siti web americani, eccetera, ed è consigliata, è molto consigliata e ben recensita. Dico onestamente, e ve lo dico chiaramente, che non sono riuscito a rintracciare gli inci e a capire di cosa viene composta. Ma essendo per pelle sensibile, mi sono affidato e poi un prezzo molto conveniente. Prossimo apartato, che lo sto guardando qua, Latti e Tonici. Ok, come latte detergente, ho scelto questa del marchio I Provenzali, che ha base di olio di Argan, e quindi qua stiamo nella stessa cosa, biologico, 90%, 97% di naturale, eccetera, ma se vai nel loro sito web, non riesci a trovare l'indice e non riesci a trovare di cosa viene composto. Comunque, siccome ho visto che è dedicato a pelle sensibili, a specifico per pelle sensibili, che contiene l'olio di Argan, che è un olio molto antiossidante, e che fanno cosmetica naturale e biologica, mi sono affidato, ci ho creduto, costa solamente 5 euro, e come latte detergente potrebbe funzionare. Come tonico, in supermercato non ci sono dei grandi tonici che tu possa dire, contengono questo acido, contengono questo principio attivo, contengono qualcosa, sapete che io non sono un amante dei tonici, e il semplice gesto del tonico per bilanciare il pH, pulire bene il poro, eccetera, non ci credo. Utilizzo i tonici quando hanno dentro un principio attivo che mi dà qualcosa per la mia pelle, per trattare la mia pelle. Ma se volete un gesto di freschezza, di sentire la pelle fresca, eccetera, io penso che l'acqua di rose della Roberts può essere ottima. Io l'ho utilizzata in passato, poi ho smesso di utilizzarla, 95-97% di composizione di ingredienti naturale, uguale nel loro sito web, non trovo gli inci, quindi non so se ha tanto alcol, poco alcol. Io ricordo quando la utilizzavo che mi piaceva, non mi irritava la pelle, quindi sicuramente contiene poco alcol. Ok? 3,30 euro mi sembra che costa. Prossimo, detergente viso esfoliante. Qua sì che ho trovato un prodotto che mi è piaciuto, di questo marchio, La Vera, che è un gel detergente, lo potete utilizzare come detergente, come peeling, o come maschera, va bene, per fare un peeling. Laboratorio che fa, o azienda che fa cosmetici naturali, ma dentro di essere naturali, hanno questo, che ha base di acido mandelico, di acido salicilico, di acido lattico, e di acido tartarico e anche la menta. Quindi, perfetto per quelli che avete i pori, per quelli che avete i pori dilatati, per quelli che avete i punti neri, e per quelli che avete una pelle impura e che avete l'acne. Questo va perfetto perché contiene l'acido salicilico. Mi raccomando, per tutti quelli che avete l'acne, tutte quelle maschere che si mettono, che poi si estrapano, che si portano via i pori, o tutto quello che sia scrap, per trattare i pori, i brufoli dell'acne. Scrap e brufoli è completamente controindicato, perché con lo scrap vai a aprire il brufolo e il batterio dell'acne, che crea l'acne, te lo vai a passare dappertutto e la sporcizia che hai nei punti, nei brufoli, lo vai a distribuire dappertutto. Quindi, vietato. Questo detergente può essere ottimo per fare quell'effetto peeling e di pulizia profonda. Poi andiamo alle maschere. Difficilissimo. Difficilissimo trovare una maschera che sia un umbarattolo. Sono tutte monodose, sì monodose, con la maschera in tessuto, quindi di nuovo io le uso, ma non sono amantissimo. Le uso quando me le regalano, quando vado a comprare in profumeria, in parafarmacia, e mi regalano delle maschere, poi le utilizzo. Non sono amante perché inquinano tanto. Troppo plastica, troppo cartone, e troppo tessuto, non biodegradabile. Ma nel supermercato non si trovano altre. Sempre sono più vistose, più piene di colore, eccetera. Allora, cosa ho scelto? Questa della Garnier ha base di tre tipi di argilla che serve per le pelli impure, per pulire bene il poro, per trattare i brufoli. attenzione, perché se avete una pelle secca, vi può seccare troppo la pelle, ok? Quindi, forse, se dicono di tenerla dieci minuti, la tenete solamente cinque minuti, ok? Che vogliamo un illuminante? ho scelto questa di Garnier alla vitamina C, che la vendono come illuminante, ho visto un pochettino gli ingredienti, potrebbero servire. Non trovo in supermercato un siero alla vitamina C da utilizzare di giorno, esistono creme con vitamina C con una concentrazione bassissima, quindi trovare un siero di vitamina C in supermercato io non l'ho trovato, ci saranno, ma non l'ho trovato, quello che mi piaccia. Quindi una maschera ogni tanto potrebbe essere il sostitutivo di quel siero mancante. E poi, che volete una maschera idratante, ho scelto questo di Florena, del marchio Florena, che è completamente biologico, naturale, e che contiene degli ingredienti idratanti, nutrienti per la pelle. Questa va benissimo dopo se fate il peeling con quel detergente che vi ho fatto vedere di la vera, poi potete mettere una maschera idratante o incluso se fate prima una maschera di argilla che vi lascia la pelle secca, poi potete fare una maschera idratante. Prossimo apartato sarebbero le creme idratanti. Un mondo dove uno si perde assolutamente nel supermercato con diverse confezioni, packaging, colori, annunci, questa fa questo, questa fa l'altra, questa fa l'altra, e che poi vai a approfondire sugli ingredienti, è difficile trovarli, nel sito web non li trovi, devi andare sicuramente in supermercato per vedere tutto, quindi è difficile. Io ho trovato questa del marchio aloe, non è il marchio aloe, è il marchio equilibria, che si chiama aloe, che la conoscete tutti, perché io penso che ci sia in tutti i supermercati d'Italia, è molto naturale, mi è piaciuta la composizione perché è veramente un idratante, a base di aloe vera, di olio di mandorle, arricchita con vitamina E, con rossa moschetta, che va a trattare anche il rossore, le imperfezioni, eccetera, e con burro di karité che va a idratare, quindi gli ingredienti che hanno scelto sono quelli basici necessari per l'idratazione e sicuramente non ci vorrebbe niente di più, 5 euro, quindi penso che sia una ottima alternativa come crema idratante, ce ne sono tante in supermercato, ma scegliere una che veramente non abbia profumo, che non abbia troppo silicone, che non abbia troppo petrolano, è veramente difficile, ve lo assicuro. Crema notte, contorno occhi, sieri, creme specifiche, tutto questo sono diversi apartati dell'esse lunga, anche qua difficilissima la scelta, sono andato a vedere tutto quello che avevano, non mi convinceva niente e vi dico ho scelto del marchio Olay, ho scelto tre cose, una crema idratante notte, una crema contorno occhi e un siero, ho visto l'indice, come secondo ingrediente hanno il dimeticone, poi tutti hanno il petrolanum e poi degli ingredienti che sono al mio giudizio assurdi in cosmetica, perché li ho scelto, perché vi sto parlando di loro, perché se andate a vedere su Amazon le recensioni su queste creme e ve le presento, questa è la prima che è la crema notte, ok, di Olay, poi c'è questa Olay Ice per gli occhi, come contorno occhi, e poi c'è il siero, questo che dicono 7 in 1, che sembra che faccia di tutto, le ho scelte perché se andate con ogni singolo prodotto di Olay di questi andate a vedere il sito web nel sito web Amazon le recensioni che ho trovati sono enormi, nel senso ci sono tante recensioni e tante buone recensioni dei consumatori, quindi persone che si sono trovati bene con questi prodotti, con la crema, con il contorno occhi e con il siero, la mia opinione che non sono così ottimi, costano 25 euro ogni uno, penso che per 25 euro ce ne sia di meglio in parafarmacia, ce ne sia di meglio in profumeria, la crema notte uno va a vedere di cosa viene composta, sì, ha dei prodotti, degli ingredienti idratanti, ma non è che trovi un ingrediente preciso che sia per anti-invecchiamento, non trovi un retinolo, non trovi un acido glicolico, non trovi un babcucchiolo, tutto quello che va a reale, o un peptido, un peptide, quindi poi molto profumati, eccetera, non sono convinto, io non le utilizzo e sono franco, sono sincerissimo con questa cosa, forse poi mi chiamò lei e mi dice sei un cretino, ma non le utilizzo, penso che per quella fascia di prezzo di 25 euro, ce ne sia molto di mezzo in parafarmacia, ma volevo condividere con voi la mia esperienza cercando. E chiudo questo video sulla cosmetica del supermercato con una cosa che questo sì che mi ha fatto quasi arrabbiare, non ci sono i solari, non ci sono i solari, nel sito web non esistono i solari, sicuramente adesso in periodo d'inverno uno va in supermercato e non ci sono i solari per il viso, perché? Perché il supermercato le tira fuori solamente nel periodo di primavera e di estate per economizzare lo spazio che hanno, ma il solare e ve l'ho detto sempre, la protezione solare è l'antimvecchiamento, l'antimacchie, l'antirrughe più importante che esiste e il più economico tra l'altro e quindi pensare di creare una routine di skin care con i prodotti di supermercato senza avere un solare diventa una routine incompleta, quindi lo volevo dire questa era la mia piccola rivindicazione per la mancanza dei solari nel supermercato, sicuramente ci sono prodotti che non sono per niente male, sicuramente voi vi siete trovati bene con dei prodotti di supermercato, io penso a persone della mia famiglia, amici eccetera che hanno sempre utilizzato prodotti di supermercati soprattutto gli uomini che forse hanno più hanno un pochettino di vorogonia ad entrare in una profumeria, ad entrare in una parafarmacia e comprano le cose in supermercato perché si vogliono curare, vogliono curare la loro pelle, non avete paura che in supermercato ci sono delle cose che si possono utilizzare tutto, no, ma sapendo scegliere potete utilizzare delle ottime cose, consiglio, scegliete le cose che siano per pelle sensibili, per pelle delicata o che siano molto naturale e con quello sicuramente non ne sbaglierete perché troverete un cosmetico con poco profumo, con poco silicone, con poco pretrolanum e che sicuramente abbia una composizione fatta bene. vi saluto, vi ringrazio come sempre di essere qua ogni settimana con me a parlare di skin care, di cosmetica, a imparare, anche io imparo con voi, quindi vi chiedo se voi avete provato qualcosa in supermercato che vi è piaciuto, che vi trovate benissimo con quello qua sotto nella casa, nella cassettina questa dove si scrivono i commenti, aspetto i vostri commenti, i vostri consigli perché voi siete la fonte di ispirazione per imparare nuove cose e per darvi nuovi argomenti e io vi aspetto settimana prossima con un nuovo video che non ricordo di cosa ho pensato che vi parlo ma comunque se non ve lo volete perdere sapete che qua sotto vi potete iscrivere, dare al campanello così vi arriva la notifica. Vi aspetto la prossima settimana. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao,